Leggere i cani, più che a portare in giro il cane, basta. Eccoci, benvenuti alla prima puntata della seconda stagione di Umano. Un podcast che parla di persone che hanno realizzato il lavoro dei propri sogni oppure, accanto ad un lavoro apparentemente normale, hanno costruito qualcosa di straordinario. Oggi sono molto contento perché, come nella prima puntata della prima stagione, avevo invitato una persona molto vicina a me, anche nella seconda stagione posso dire la stessa cosa per questa prima puntata. Quindi non faccio nessun tipo di presentazione, cambiamo questo stile quest'anno e parliamo subito con Marco Bellia. Ciao Marco, come stai? Ciao, benissimo. Molto bene, molto bene. Tra l'altro non siamo soli nello studio, non siamo mai soli nello studio, in realtà abbiamo sempre tutta la nostra regia, ma quest'anno, o meglio in questa puntata, abbiamo anche due ospiti un po' più silenti, un po' più a terra, che sono i tuoi cani. Come mai hai portato anche loro? Cosa fai nella vita? Perché ormai loro, oltre a far parte della vita nella mia famiglia, ma sono parte del lavoro. Perché lavoro con loro, nel senso che faccio l'addestratore, preferirei definirmi un educatore più che un addestratore, cerco di essere il mediatore, tra virgolette, tra il cane e l'umano e il mondo. Perché la relazione comunque che ha il cane con il proprio umano e col mondo è la cosa più importante che devo riuscire a trasmettere per far sì che ci sia una comprensione maggiore di quelle che sono le azioni che fa il cane, che sono conseguenti alla motivazione che porta il cane a fare quelle azioni, invece tante volte si cerca solo di andare a correggere l'azione, a non capire quali sono le motivazioni, le intenzioni, i bisogni, che non sono solo i bisogni primari, ma sono i bisogni che permettono il cane di essere soddisfatto, di avere una maggiore autostima di sé, di essere consapevole, di saper gestire la frustrazione, tutte queste cose qui sono le cose su cui vado a lavorare per riuscire a aiutare questo binomio a proseguire meglio nella loro vita insieme. Binomio perché? E conduttore perché? Perché non mi piace la parola proprietario, perché io non sono proprietario dei miei cani, lo sono per lo Stato, ma condividiamo la vita insieme e appunto la parola padrone tendenzialmente vuol dire imporre qualcosa, padrone su, mentre si collabora molto di più nel momento in cui si è un binomio, si è un qualcosa, una relazione, come essere una coppia. In questo mio caso siamo un quintetto. Un po' di più. Allora facciamo un passo indietro, noi ci conosciamo da un sacco di anni, perché ormai saranno dieci anni almeno, penso. Probabilmente anche un po' di più. Avevo 18, ne ho 29, quindi esatto, anche qualcosa di più. E dove nasce questo tuo percorso? Nel senso che ti ho conosciuto sotto altre vesti e poi invece dopo un po' appunto ci siamo risentiti e hai iniziato tutto questo percorso. Mi hai conosciuto sotto altre vesti perché io sì, insegnavo parkour, ma se ci pensi bene, nelle prime lezioni con me c'era sempre un cagnolino, la Oney. È vero? Non nelle primissimissime? Perché è arrivato poco dopo e è lì che è nato tutto. Perché lei era un cane che aveva un po' di difficoltà, ho cercato di capire come fare. Ma non eri ancora educatore? Io ho avuto la fortuna di incontrare una persona che era anche un educatore, che aveva degli amici educatori e che mi ha consentito di seguire lui durante, penso, 5-6 mesi con la mia cucciola e il suo cucciolo, che in quel momento avevano un'età abbastanza vicina, e mi hanno insegnato a leggere un po' di più questa cosa, a leggere i cani, più che a portare in giro il cane e basta. Cosa intendi per leggere i cani? Sì, nel senso che io ho un cagnolino piccolino, nel senso che ho una taglia più piccola di quella che hai qui oggi, ma delle volte è vero che è difficile interpretarlo. Sì, è difficile proprio capire banalmente di cosa ha bisogno. È perché attraverso appunto quella che è la postura, la respirazione, la posizione delle orecchie, alcune espressioni, alcuni modi di abbaiare. Perché abbaiare non è sempre uguale. Ok. Posso capire se per esempio il cane sta frustrando, sta chiedendo qualcosa, sta pretendendo qualcosa, o appunto durante la crescita io posso insegnargli che quei metodi lì non funzionano, ma può trovarne degli altri che siano più funzionali per entrambi. perché in realtà se tu mi abbagli per pretesa e io ti do quello che tu mi stai pretendendo, ad esempio, alimento questo tipo di comportamento. Ok. Sarà una vittoria. Se riesco invece a farti capire che pretendendo non lo otterrai, ma io comunque poi te lo darò nel momento in cui tu sarai tranquilla, so che mi stavi chiedendo quello, ma quel modulino mi piace. Ok. E di conseguenza se in uno stato d'animo differente poi io ti porto o a quell'obiettivo, a quell'interesse dove volevi andare, o ti do la cosa che tu volevi, tendenzialmente è come se io premiassi quel comportamento, quello stato d'animo, e mi sta bene quello, e tu tendenzialmente reitererai quel comportamento piuttosto che quello che avevi già prima. Ok. E invece facendo sempre un passo indietro, mi dicevi che appunto hai fatto 5-6 mesi, ho fatto 5-6 mesi con questa persona qua, che è stata la prima che ho cominciato a dirmi vedi adesso il cane è interessato a quello, vedi adesso il cane è interessato a quell'altro, però se no glielo facciamo fare, solo che allora io non ero così tanto, non riuscivo a capire così tanto. Ok. Ho colto qualcosa. Poi sono andato nel frattempo avanti, ho avuto il mio secondo cane, che è completamente diverso dal primo, col quale ho fatto tutto un altro tipo di lavoro, e poi sono arrivato, mi sono lasciato con la mia ex ragazza al quale è rimasto il mio primo cane, sono sceso dai miei genitori con il cane che avevo in quel momento e da lì in poi io ho continuato a cercare di costruire molta più relazione col cane singolo e a fare un sacco di esperienze e a girare ancora di più per Monti rispetto a prima, perché comunque ho sempre vissuto vicino ai Monti, perché mi piace. E a quel punto lì mi sono interessato sempre di più un pochettino come quando facevo gli allenamenti gratuiti di parkour. Certo. Abbiamo iniziato, ci siamo conosciuti. Facevo gli incontri gratuiti per andare in montagna col cane e con chi voleva. Quindi è nata una cosa che è nata proprio come una passione. È nata perché mi piaceva andare in montagna, mi divertivo col mio cane, alcuni amici si divertivano con loro, e ho cominciato a creare un gruppo su Facebook che era principalmente legato solo a una razza. Ok. E sì, però si presentavano cani di anche altre razze e andavamo a fare queste passeggiate, dove ho fatto anche cose con fin troppi cani. Adesso non mi permetterei mai di portare così tanti cani insieme. Però si divertivano, ci divertivamo. Una cosa che mi soddisfava è vedere il cane felice, la persona sorridente, il cane rilassato, che era un po' come vedere voi felici di aver superato l'ostacolo. Perciò perché facevo quello? Perché in realtà sì, era formativo per me, ma a me piaceva un sacco. Mi soddisfava tantissimo vedere le persone soddisfatte con una maggiore autostima. Certo. Perché tutto quello è quello che facevamo alla fine. E finché hanno incominciato a spingermi anche a dire perché non provi, perché non provi, perché non provi, è arrivato il Covid. È arrivato il Covid, io lavoravo in azienda, mi è finito il contratto. Mi è finito il contratto. In quel momento lì ho approvato e ho detto mi iscrivo al corso. Quindi è stato lì il click, la cosa che ha fatto scattare il fatto di dire che ho una passione, seppur bella, che ho avuto tanto tempo. Ero nella condizione che me lo poteva permettere perché non ho figli. Al momento ho la compagna, avevo la compagna che ho in questo momento che in realtà mi ha spinto anche tanto, anche lei su questo, perché vedeva che comunque c'era passione su quello che facevo e mi ha detto prova. Da lì prova, 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 prova. Ho fatto un pochettino il raccogliem dentro alcuni centri per riuscire a capire come funzionava, come si poteva rapportare con le persone. E poi io comunque da lì in poi ho incominciato a dire ok, mi sono diplomato, ho fatto il corso, ho fatto qualche specializzazione, porto avanti quello che è il progetto di portare delle persone in montagna col cane, però seguendo alcuni tipi di attenzioni sia verso la montagna, sia verso il cane, sia verso gli altri viandanti, perché ci deve essere anche questo. E bisogna imparare a rispettare un po' tutto. Infatti quello che volevo chiederti è proprio questo, nel senso che... Di selvatico. Esatto, cioè ti diplomi e poi a un certo punto decidi che c'è Contini sulla strada per un certo periodo, diciamo, di portare comunque i cani in montagna. Cosa vuol dire e cosa cambia portare i cani in montagna piuttosto che invece portarli banalmente come, dico, tra virgolette, fanno tutti e fargli fare il giro dopo che hai finito la giornata lavorativa, diciamo così. Allora, ho trovato un paragone divertente, se no... Diciamo che è il posto dove loro si possono esprimere nella maniera più naturale possibile e meno influenzata da quelli che sono tutte le interferenze causate dalla società, che comunque è inevitabile che vivendo all'interno della società loro hanno l'obbligo di riuscire a integrarsi e da parte del conduttore c'è l'obbligo di riuscire a capire come farli integrare, mentre tante volte può succedere involontariamente che si prende un cane che viveva in un ambiente poco stimolato, perciò le campagne del sud oppure è stato allevato nelle cascine distante dei rumori e vive in centro città. Certo, cambia completamente il contesto. Tutti quegli stimoli il cane non è stato abituato magari a gestirli, deve gestirli tutti insieme e l'umano in quel caso deve essere in grado di capire come comunicare, come gestigli questi problemi, mentre tante volte lo lascia esposto al suo problema dicendogli prego, gestiscilo come ti senti e poi si trova in difficoltà perché il cane giustamente lo fa come si sente abbagliando dicendo mi accorgo che se faccio così le persone indietreggiano porto avanti quel comportamento mentre se io lo proteggessi da quello che è per esempio il problema tante volte il cane si può affidare al conduttore che è a base sicura anziché prendersi la responsabilità di dover gestire una situazione che in quel momento non è ancora in grado di gestire. Certo. Più avanti con calma con i modi giusti si riesce a far sì che il cane possa gestire anche quello ma è il motivo per cui è molto meglio in montagna ad esempio che in città perché in montagna il cane mi può dire davvero chi è e può essere magari un po' più libero di esprimersi e magari facendo delle cose che sono più in linea con quello che è il suo interesse il cane mi risponde di più perché stai facendo qualcosa insieme di bello stai facendo qualcosa che è insieme che è in linea col suo desiderio e non solo col mio bisogno perché tante volte anche quando noi lanciare la pallina lanciare la pallina semplicemente perché è più comodo che camminare o correre invece con la pallina lui si scarica ma in realtà tante volte con la pallina lo posso rendere dipendente dalla pallina o attivarlo o attivarlo per esempio sull'attenzione alle cose che si muovono rapidamente che loro hanno già in sito perché sono predatori e perciò sfrutto quel sistema lì e in realtà vado a sfruttare un sistema che è disfunzionale per due motivi o vado a sfruttare il sistema dopaminico a livello cerebrale perciò ti rendo dipendente da quello oppure vado a sfruttare il sistema che è legato alla tua capacità di attivarti sul movimento e perciò magari poi ti attiverai sugli uccellini sulle biciclette sulle macchine su tutto ciò che si muove perché perché ho scoperto che è divertente con la pallina ma in questo momento non me lo stai lanciando perciò ho trovato un altro gioco che è un po' come quando i bambini si annoia fanno il gioco delle macchine gialle gioco delle tarche con le lettere doppie cioè sono tutte cose che tu fai per perdere tempo e loro investono la loro energia su quello perché in quel momento non sanno cosa fare allora vabbè caccio le lucertole oppure posso fare questo comportamento per evitare la società mi fa talmente paura ne ho talmente difficoltà a relazionarmi che preferisco chiudermi in quel tipo di situazione in modo tale che vado a spingere su quella che è la mia spinta genetica che mi porta a usare il naso a cacciare le lucertole in modo tale da non pesare che ci sono le macchine che passano che ci sono queste cose che mi danno fastidio perché il problema è sempre quello il cane cerca di tornare in equilibrio perché più in equilibrio sta meglio risponderà in maniera corretta allo stimolo quindi l'idea è sempre quella di metterlo nella situazione migliore e poi dopo educarlo anche a quello che inevitabilmente è il contesto perché se uno abita in città chiaramente avrà questa cosa a rientrare più rapidamente in equilibrio perché ho cominciato a prenderla il problema da distante e soprattutto a vedere come sei tu puro tra virgolette come sei tu davvero e per poi pian piano riportarti tant'è che io comunque lavoro anche in centro città con i cani che vivono in montagna perché? perché al contrario loro vivono sempre in montagna non sono abituati a quello la prima volta che vogliono andare in ferie si ritrovano che non rischiano ad entrare al ristorante c'è troppo casino c'è questo c'è quell'altro purtroppo ci sono tanti fraintendimenti tante volte succede per esempio che con i cuccioli le persone decidono di dire lo voglio far socializzare perciò lo faccio toccare da tutti vado in tutti i posti dove c'è un sacco di persone e in realtà lì per esempio può succedere un'altra cosa si chiama sovraesposizione il cucciolo non ha grandi reazioni però ha paura in quel momento e perciò poi diventando grande può manifestare quelle paure piuttosto che il cucciolo impara che deve conoscere tutti perciò poi stai camminando sul tuo marciapiede e lui vuole andare a conoscere tutte le persone che incroci per strada sono entrambe due cose scorrette perciò non voglio portare avanti questo tipo di comportamento in futuro devo pensarci in anticipo non voglio che lui metta le zampe addosso alle persone non posso eccitarlo toccarlo o confermargli che con l'atteggiamento va bene quando è cucciolo se mi mette le zampe addosso se no comunque lui lo farà sempre perché te l'ho insegnato da piccolo certo è una cosa correggibile nel senso che immaginiamo che non ti arrivi un cane che è un cucciolo ma ti arrivi un cane più grande che ha alcuni comportamenti chiamiamoli sbagliati o come ci hai detto adesso non è sbagliato ma un po' meno inclini alla nostra società diciamo così sono correggibili se possiamo in qualche modo andare a riedocarlo sicuramente più è avanti più è difficile però l'esempio che faccio di solito è se tu a un bambino gli spieghi che quando incontra qualcuno deve ficcargli due dita negli occhi per presentarsi e poi a 18 anni gli dici non gli ficchi le dita ma ti presenti così con la mano e a 18 anni ci metti un attimino prima di dire ti do la mano inizialmente se vuoi fare così poi dici ma no devo darti la mano e probabilmente se sei un po' nervoso pam gli rinfili e poi dici ah no dovevo darti la mano anche qui si possono correggere ci si mette un pelo più tempo bisogna stare un po' più attenti chiaramente tutte le volte che tu devi fare una rieducazione è un pelo più complessa sta sia all'umano quanto è veloce nel switchare cioè tante volte spiego come utilizzare il guinzaglio chiedo una cosa e poi sovra pensiero l'umano tende a fare la cosa che ha sempre fatto ma lo fa per un automatismo perché sia tu umano che il cane avete un automatismo togliere gli automatismi e cambiarli pensaci sempre nel parkour come cambiamo perché io ho importato tantissimo di quello che era nel parkour nella disciplina della disciplina nella nella gestione del cane perché la biomeccanica di come si deve porre la persona per riuscire a essere in una posizione corretta per rispondere alla tirata che darà il cane a essere attento e attivo e non passivo tutte queste cose qua arrivano dal parkour e l'ho semplicemente copia e incollate di qua in base all'utilizzo che mi serviva anche perché la base era te la ricordi? il movimento deve essere nel senso deve essere un movimento utile non è un movimento che è fino all'estetica si tutto ciò che è utile è parkour ah si certo quello si assolutamente di conseguenza se tutto ciò che è utile è parkour utile vuol dire che devo trovare maniera più utile per riuscire a raggiungere quell'obiettivo e in questo caso è la maniera più utile per riuscire a raggiungere il fatto di non farsi schiantare per terra le persone stanno più delle volte col braccio dritto le gambe dritte e già solo nel momento in cui il comito è lungo il fianco e la posizione è un po' più riuscirai a essere molto più e se tu anziché tirare spingi verso per esempio il basso tendenzialmente spingi il tuo baricentro sempre più in fondo più stabile questo arriva tutto dal mondo del parkour l'utilizzo del corpo per contrastare e non e non al contrario tirare cioè io al massimo contrasto il cane che sta tirando e poi gli chiederò in qualche modo di venire da me e ci sono una serie di tecniche semplici però tutto nasce da collaborare non imporre e cercare attraverso la lettura di capire qual è la motivazione in modo tale da poi andare a lavorare sulla motivazione del cane e spiegagli per esempio che ti piace tanto l'adrenalina ti piace tanto sentire questo ok possiamo saltare e possiamo farlo in modo tale che l'adrenalina la senti ma al suo tempo è una maniera controllata è una maniera sicura sia una maniera più utile sia l'obiettivo comunque era arrivare dal punto A al punto B nella maniera più semplice sicura e fluida possibile certo per quello che l'interpretazione del movimento e della paura della persona mi permette di vedere sull'umano un pochettino come quando quando c'era paura di affrontare un ostacolo e io leggo la paura dell'ostacolo qua invece leggo la paura dell'umano che il cane abbia un tipo di reazione perché? perché avrà una microespressione avrà una postura avrà una cosa che mi farà capire tutta quella lettura che io ho fatto sulle persone che avevano paura di saltare l'ostacolo lo sta facendo invece sulla persona che ha paura che il cane faccia una cosa piuttosto che un'altra e a un certo punto invece hai avviato da io dico da poco in realtà è un annetto un nuovo progetto nel senso che hai cambiato alcune carte della tua vita hai preso una casa sì in un posto un po' più isolato dove invece anche lì fai una parte di addestramento per i cani giusto? sì ed è una baita in mezzo al bosco con accesso solo pedonale e con nessuna utenza pubblica e con l'idea che bisogna imparare un po' a rinunciare a quella che è la comodità odierna per riuscire ad affrontare in realtà un po' di più di quella che è la capacità di prendersi cura un po' di se stesse di quello che c'è intorno davvero perché devi stare attento molto di più a quello che consumi non avendo energia elettrica illimitata ma un pannellino piccolo una batteria piccola avendo l'acqua limitata perché ha una piccola fonte che mi dà x litri al mese e io non posso consumare più di quei litri se piove non potrò consumare tantissima energia elettrica di conseguenza dovrò riuscire in base al meteo a capire non solo quando lavare i vestiti per farli asciugare ma anche quando è meglio caricare alcune cose piuttosto che altre o cosa è meglio caricare prima d'estate riesco a utilizzare il frigor d'inverno per ora no d'inverno per ora lo metto metto le cose in balcone poi c'è la possibilità magari d'inverno un po' più fresco almeno il frigor serve un po' di meno poi magari arriveranno dei pannelli più grossi e arriveranno delle batterie più potenti e mi permetterò magari di avere qualcosina in più ma quel qualcosina in più potrebbe essere l'acqua calda perché per ora non c'è e un bel phon che magari con i capelli lunghi può essere comodo ma non c'è tanto di più come obiettivo mentre con la condivisione con i cani è perfetto perché lì loro hanno proprio quello che è il miglior posto per poter stare io poi sono stato in questa sua baita e hai recintato hai proprio fatto tutta una zona dove i cani possono praticamente girare liberi e hanno uno spazio non infinito ma adesso molto molto grande dove magari alcuni cani che abitano in città assolutamente immagino non saranno abituati ad uno spazio più grande ed è il motivo per cui tante volte le persone che sono in città scelgono di venire con me o in baita o a fare questi tipi di escursioni perché è il connubio tra la cosa che diverte di più al cane che lo fa rilassare allo stesso tempo la cosa che permette all'umano che solitamente vive una vita caotica di rilassarsi e fare otto ore dove comunque non ha questa pressione ma in realtà bisogna sempre ricordarsi che quel tipo di evento è sempre studiato per lavorare sul cano ed educare il cane perciò sì loro vengono a rilassarsi ma devono avere sempre la testa attenta a cosa stanno facendo in modo tale che una volta che sarà automatizzato questo tipo di comportamento sia da parte del cane che da parte dell'umano nel giro di due, tre, quattro, cinque uscite non ci sarà più tutto questo processo complesso ma potrei goderti davvero la giornata perché ormai avrai automatizzato anche tu alcune cose è proprio lì il ok sì sì il salto di qualità è il switch da fare esatto la cosa un pochettino di riuscire a stare sul limite e dire come posso far sì che anche l'umano sia soddisfatto perché sennò chiaramente rimane molto risoddisfatto tante persone vengono solo per soddisfare anche il cane non farebbero mai una camminata del genere ma neanche morti ma in questo caso per soddisfare il cane sono disposti a provare a venire persone che hanno dormito in tenda che mi hanno detto fosse per me non l'hai mai fatto ma va io solo hotel sono sempre andata solo in hotel andato solo in hotel e invece in questo caso prova a mettermi in gioco perché perché è una delle cose che ti costringe il cane a cui ti costringe il cane a metterti un po' in gioco e cambiare alcune io ero una persona impaziente molto impaziente e che aveva bisogno di tutto subito sia il cane mi ha permesso questo sia la baita mi ha obbligato perché mi sono auto obbligato andando in baita a scoprire per esempio cosa vuol dire i ritmi più lenti dover pensare molto prima io la macchina ce l'ho a 250 metri di estate e a un chilometro d'inverno se tu esci e ti dimentichi qualcosa te lo sei dimenticato devi tornare indietro se sei salito su e hai dimenticato di comprare delle cose al supermercato non le mangerai e perciò devi essere un po' più attento e fare dei movimenti che abbiano un senso e perciò non puoi sprecare energie già solo per questo ti auto educhi io ho un'ultima cosa che ti chiedo invece è se qualcuno volesse venire a fare delle camminate con te piuttosto che avviare un processo di un percorso di rieducazione video educazione come può fare nel senso mi può contattare o su facebook o su instagram o comunque sia il mio profilo personale che il profilo dell'attività vi lasciamo tutti i vari link e i vari contatti sotto questa puntata li potete trovare e volendo adesso sto incominciando a collaborare proprio come ti dicevo con una ragazza di qua a Ranica che anche lei ha un centro addestramento un po' più molto più strutturato di quello che posso essere io e perciò se si è in valle seriana ho un appoggio di qua se si è in valle brembana ho un appoggio di là ma tendenzialmente comunque io lavoro a domicilio mi sposto e comunque le persone per venire in montagna si devono spostare loro e devono venire un po' più verso dove gli consiglio io anche perché lì appunto valuto in base a temperature se crei un percorso ad hoc sia per il cane che per il condottore magari estate ti propongo un'alba o zone dove c'è l'acqua e dove ci sono le cascate è inverno piove e allora io ragiono dove potrei portarti per esempio sotto la neve in modo tale che anziché camminare sotto l'acqua magari camminiamo sotto la neve le uscite notturna con la luna con la luna e la neve no guarda ci sono un po' di esperienze davvero anche proprio tante persone vengono per mettersi in gioco ho paura del buio vengo a fare la serale perché? perché io ho paura del buio e so che quando ho paura la trasmetto al cane perché emano un odore di paura il cane non riesce a capire che io ho paura del buio il cane sa che tu hai paura non di cosa e perciò dice la prima cosa che arriva ad esempio e in questo caso imparare a far sì che tu possa gestire il cane anche in una situazione per te fuori comfort fa sì che tu in una situazione fuori comfort che non è il buio ma è un'altra cosa non saresti a essere più in grado questo è un pochettino tutto il giochino super io Marco ti ringrazio tantissimo per essere stato ai nostri microfoni e ai nostri telecamere e mi ricordo appunto che questa puntata invece la potete trovare su YouTube su Spotify su Apple Podcast le varie piattaforme di streaming per il podcast e poi ci vediamo nella prossima puntata di Umano tanto grazie ancora Marco grazie a te